Le cartelle di José María Esquivel, Cussi, sono tante. Quel ragazzo ha avuto molti problemi. Non lo so, però io le tenevo qui, qui. Beh, spero che per domani le avrai trovate, se no spero che tu abbia più fortuna nel cercare un nuovo lavoro. Cosa? No, no! Fiore al vento che trema, Folletti che fanno dispetti ed ecco apparire le cartelle di cena. Bene. Benissimo. Ciao, Cussi!